Musica Credete che ci troveranno? Certo, siamo nel ventunesimo secolo Ci sono satelliti in orbita in grado di fotografarti la targa Per fotografare si inquadra e si scatta I satelliti scattano, ma devi dirgli cosa inquadrare E se non c'è nessuno che li dirige, sono inutili Se non è essere pessimisti Fidati di Francesco, lui le sa queste cose Fammi indovinare, consigliare militare O forse eri nei reparti speciali Addetto alla sicurezza Installazioni Che tipo di installazioni? Nucleari Sono un soldato mercenario Che fine ha fatto la tua divisa? Tutte le mie cose sono date perdute Cosa proponi di fare? Al momento è difficile giudicare Però il vostro piano iniziale era buono Continuiamo sulla strada del comune Se c'è qualcosa che ci può aiutare È probabile che si trovi lì Quasi che si tratta di andare a un'umino Trata di più Quasi si tratta di più Quasi che si tratta di più Ii potmai Abbiamo trovato questa Pensiamo sia meglio la tenga tu Ma sei l'unico tra noi che sa usarla Ci serve Per proteggerci Sai anche dirmi da cosa credi dovremmo essere protetti? Stiamo tutti facendo qualcosa A maggior ragione tu dovresti fare la tua parte Sei qualcosa contro di me d'accordo Ma calcola bene il peso delle parole Fammi capire Dove vuoi andare a parare Francesco? Siamo stanchi e anche abbastanza provati Una pistola darebbe certamente un senso di sicurezza in più Sicurezza? Voi non volete sicurezza Siete solo alla ricerca di qualcuno da punire Per tutto quello che vi è successo Qualcuno a cui dare la colpa Qualcuno su cui usare quest'arma Ma non vedete? Soltanto il fatto di averla trovata Ci sta facendo litigare Dobbiamo sbarazzarcene Fate quel che volete Ma non contate su di me Oltre lezbo Oltre lezbo Oltre lezbo Se sai come usarla, sai anche come smontarla Ti aspetti che vada dentro a scusarmi ora? Non ce n'è bisogno, so che non ha intenzione di venire con noi Cosa te lo fa pensare? Il fatto che so riconoscere una maschera Non fingere, sei l'unico tra noi che sembra non provare interesse nel tornare alla civiltà Civiltà? Ma guardati attorno Senza tecnologia i confini sono ridotti a linee su una mappa Non c'è più niente per cui combattere Niente da salvare Come ti viene in mente? Ho visto abbastanza Il mondo ci ha ignorato, schiacciato, ridotti ad un numero Il potere? Vuoi davvero sapere cos'è il potere? Un'illusione, ecco cos'è Siamo solo animali in gabbia Allora mi spieghi cosa ci guadagneresti a restare qui E tu perché speri così tanto di tornare? Perché credo che mettere a segno qualche vittoria Sia l'unica cosa che ci dà la forza per continuare a giocare le altre partite Quelle che sappiamo di non poter vincere Se la pensi davvero così Allora meriti un posto su quell'elicottero Allora meriti un posto su che ci dà la forza per continuare a giocare le altre partite Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.